Il premio maestro di folklore è uno dei riconoscimenti più ambiti in Sardegna, istituito dall'ente provinciale per il turismo di Nuoro e assegnato in occasione della Sagra del Redentore per tanti anni. Mancava appunto dalla storia di questo premio da alcuni anni, è stato finalmente ripristinato nel 2000 ed assegnato ad un nuorese particolarmente meritevole. Abbiamo parlato prima della pubblicità di Bobore Nuvoli, direttore del coro Soscanarios, lui è il suo coro ma lui in modo particolare è stato insignito del premio dell'edizione del 2000 di maestro di folklore. Vediamo insieme la cerimonia di premiazione e poi ascolteremo il coro diretto da Bobore Nuvoli con un canto particolarmente interessante che dà appunto il titolo al loro ultimo lavoro discografico De Frogas. A seguire una interpretazione di un personaggio che noi stiamo seguendo da qualche anno proprio passo passo la sua evoluzione e quindi stiamo notando sempre di più questi straordinari miglioramenti, questi virtuosismi che volta per volta inserisce nel proprio repertorio, nel suonare evidentemente, l'organetto diatonico. Sto parlando di Giovanni Pisu, di Sinnai che anche in questa occasione è stato protagonista, visto che l'ho già stato qualche anno fa, nel palcoscenico del Redentore. Ma intanto la cerimonia di premiazione del premio maestro di folklore del 2000. Il premio maestro di folklore è nato nel 1981 ed è stato attribuito fino al 1994, poi è stato sospeso per alcuni anni e riprende appunto in questa occasione. La motivazione della istituzione del premio maestro di folklore nasce per premiare le singole persone che con intelligenza e faticosa opera contribuiscono a conservare ed arricchire il patrimonio folcloristico sardo. Io vorrei avere, se fosse possibile, per la consegna del diploma medaglia d'oro, è naturalmente il diploma di maestro di folklore, il professor Fabio Fancello che è commissario dell'ente provinciale del turismo che ha istituito questo premio, vorrei avere, eccolo qua, che consegna per l'intensa opera di creazione ed elaborazione di musica sarda che ha divulgato in Italia e all'estero. Maestro di folklore del 2000, nella nuova edizione ripristinata di questo importante premio, maestro Bobore Nuvoli.